La tubercolosi è un'infezione dell'albero respiratorio. La tubercolosi è un'infezione dell'albero respiratorio legato a un battere che si chiama micobattere tubercolare. In realtà l'infezione può essere a carico dell'albero respiratorio ma anche di altri organi, per esempio la meningite tubercolare esiste. Dall'altra parte, a parte le forme acute, il micobattere è molto astuto e può rimanere all'interno del nostro organismo in maniera latente e infatti noi chiamiamo questo tipo di tubercolosi la tubercolosi latente, che è quello che spiega la comparsa della tubercolosi lontano dall'infezione acuta. Allora, diciamo che per noi tubercolosi, per noi italiani, fino a qualche anno fa era a pensare quasi ai drammi del primo del Novecento, no? Giusto? Con queste donne che morivano di tisi, che si consumavano. Adesso però perché ritorna a fare paura la tubercolosi? In realtà dobbiamo mettere in chiaro che la tubercolosi in Italia non sta aumentando in questo momento, abbiamo circa 4.300 casi l'anno, con una diminuzione di circa il 2% ogni anno. Quello che sta succedendo è che stiamo importando molte persone, attraverso la migrazione, che sicuramente vengono da aree dove l'incidenza di tubercolosi è molto alta e quindi queste persone hanno la tubercolosi latente che può esplodere quando arrivano in Italia. Allora, io però vorrei sgombrare il campo da luoghi comuni pericolosissimi su questo. Allora, chiariamo, queste persone, i migranti, non è che portano la tubercolosi, si ammalano qui, da noi, a causa delle condizioni di vita cui sono sottoposti quando arrivano. È proprio così, la tubercolosi latente, cioè questa tubercolosi che rimane nel nostro organismo, normalmente quando si è sotto stress, quando si è malnutriti, quando si hanno problemi, per esempio il fumo di sigaretta, il diabete o altre patologie immunitarie, tendono a sviluppare la malattia. È chiaro che un immigrato che vive in condizioni disagiate è proprio l'esempio classico per favorire lo sviluppo della tubercolosi. E in questo caso che cosa si può fare? In realtà, quello che si suggerisce, che è inattivo, è attivo in Italia, è un controllo serrato da parte delle autorità sanitarie di chi arriva nel nostro paese. Ma non solo di chi arriva, ma di chi è già nel nostro paese. Perché dobbiamo tener conto che l'immigrato non sviluppa la tubercolosi subito, ma di solito è entro due anni. Quindi è chiaro che il controllo... Proprio per quello che abbiamo detto, no? Esattamente, perché sono le situazioni che portano... C'è una chiara correlazione con il reddito e l'incidenza di tubercolosi. Più sono ricco, meno ho tubercolosi. Addirittura. Questo è un chiaro esempio. È chiaro che quindi serve un sistema di sorveglianza che in Italia funziona e che ovviamente va implementato al meglio in tutte le regioni italiane. Allora, dunque, un paio di settimane fa c'è stato questo congresso nazionale della Società Italiana di Pneumologia, di cui lei è presidente, e che però lì avete annunciato che nel 2050 la tubercolosi sarà eliminata. È così tanto tempo, professore? Perché? Sì, perché in realtà, come ho detto, i numeri di casi diminuiscono del 2% l'anno in questo momento. Questo vuol dire un tempo lunghissimo per eliminare la tubercolosi. Intanto, eliminazione vuol dire avere un caso ogni 10 milioni di abitanti. Allora, il problema qual è? È di migliorare la diagnosi, migliorare i nostri interventi di gestione della popolazione, del trattamento, possibilmente arrivare ad avere un vaccino, e quindi aumentare dal 2% al 10% la riduzione. Questo porterà alla eliminazione della tubercolosi nel 2050. Ci sono dei farmaci efficaci? Assolutamente sì. Ci sono diversi farmaci che vanno usati in numero almeno di 4 quando c'è l'infezione acuta, perché il micobattere, come dicevo, è un battere molto astuto, che tende a sviluppare subito resistenze agli antibiotici e ai chemioterapici. Abbiamo purtroppo un 4-5% di casi in cui ci sono batteri resistenti a questi farmaci. E questi sono quelli più difficili da gestire e vanno gestiti assolutamente in ambiente super specialistico. Ci sono dei centri apposta per gestire questo tipo di tubercolosi. Un'ultima cosa rapidissima. Lei ha parlato di un vaccino che ancora non c'è, ma quindi non esiste una prevenzione di qualche genere, a parte le condizioni di vita, naturalmente. Beh, la prevenzione è una prevenzione di popolazione, quindi ricordiamoci che sputare per terra è sbagliato ed è una delle cose che era stata una delle campagne ancora degli anni 20. E questo è effettivamente il comportamento personale fondamentale per ridurre l'incidenza della tubercolosi e la trasmissione della tubercolosi. È chiaro che migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione è il primo punto per diminuire l'evento. Grazie, grazie professore. Grazie.